Ringrazio le autorità e tutti quelli che hanno consentito medici a questa giornata. Io volevo fare un salto nel passato, nel 1987, quando l'allora professor Cattaneo, primario del reparto di immunologia, insieme alla dottoressa Tinchene, al suo marito dottor Balestreri, mi disse che stanno creando un'associazione per voi malati di LES. E siamo andati in questo oratorio dove ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la Giuseppina, il suo marito Paolo, il professor Dallaglio e tutti gli altri che c'erano. Da lì abbiamo fatto la prima sezione italiana del gruppo italiano LES a Brescia, perché avevamo il sostegno e l'appoggio dei medici del reparto, tant'è che venivano da noi da Padova, da Trento, da Bergamo per fare le riunioni mensili. Poi da lì dopo ognuno ha preso la sua strada, eccetera. E oggi siamo qua, mi ricordo ancora il decimo anniversario dell'associazione all'Istituto Superiore di Sanità a Roma, con professori medici dall'Ala Z, dal professore Aiuti e dal dottor Zanussi, quindi dall'Ala Z c'erano tutti, tutti bravissimi. E l'anno successivo, il 17 ottobre del 98, l'abbiamo fatto qua. L'anno scorso, il 22 aprile, l'abbiamo fatto a Roma, quest'anno l'abbiamo fatto qua. Sembra proprio che la mille miglia, Brescia-Roma, sia una cosa così. Ecco, comunque volevo dire solo una cosa prima di concludere. Primo, due cose. Primo, affidatevi sempre alla fortuna dei nostri medici che sanno tutto e non a dottor Google. Ho sentito, ho fatto questo perché è un consiglio che vi do proprio da malato. 38 anni, ormai ho fatto più anni di malattia che con mia moglie. Ma al di là di quello, volevo dirvi una cosa. Noi siamo qui, oggi siamo arrivati dall'87 a qua, perché ci sono persone che si danno da fare, che fanno volontariato. Il volontariato non è che lo compri, o ce l'hai dentro o non ce l'hai, però prendiamo un'associazione a caso, la Croce Bianca. C'è quello che guida il mezzo, l'infermiere, il medico, quello che risponde alle telefonate, quello che tiene la contabilità, quello che è il rapporto con le istituzioni, gli approvvigionamenti. Tutte figure, tutte persone che servono. Quindi non dire, io non me lo senno, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti. Poco, ma l'associazione non è una cosa a scopo di lucro, ma ognuno dà quello che può, perché tutti insieme possiamo fare qualcosa di veramente bello e continuare questo percorso che dura da 37 anni. Un invito a partecipare, grazie ancora a tutti. Grazie a tutti.